Domenica 15 luglio 2018 alle ore 20 in Cardile si terrà un'esibizione dell'orchestra di fiati Gioacchino Russini di San Mauro Cilento diretta dal maestro Lestranzo Schiavo che è qui con noi il perché c'è una commemorazione di un'antica banda di Cardili diretta dal maestro Eugenio D'Aiuto tra l'altro c'è scritto 1922-1927 e intanto maestro perché questa commemorazione di questo artista che tra l'altro sembra sia nata a Cardile per poi emigrare? Sì, lui è stato un grande maestro di banda, di musica per banda ma non solo, ha composto un sacco di composizioni è stata una volontà della famiglia D'Aiuto che adesso a Cardile sono dei pronipoti e quindi c'è stata fatta una ricerca di spartiti vecchi e hanno riscontrato partiture, trascrizioni, brani originali per questo tipo di formazione e allora loro mi hanno invitato a rielaborare, a ristrumentare queste musiche per ritornarle in vita di nuovo Ma tra l'altro sembra che abbia scritto anche qualcosa dedicandolo a Vallo della Ducania o no? Sì, lui è stato anche direttore della banda di Vallo nel 1921 e quindi ha omaggiato la città con una marcia sinfonica, omaggio a Vallo appunto Ovviamente ne ha composte tanti di brani, all'epoca ha avuto anche un discreto successo insomma questo maestro d'aiuto, però c'è una curiosità perché 150 lire per un sogno? Questo era uno slogan credo del maestro d'aiuto Sì, è interessante, molto carina questa notizia che loro pagavano 150 lire per far parte della banda perché poi dopo dovevano acquistare lo strumento e quindi era il loro sogno perché la banda di prima era composta da elementi giustamente pastori gente che lavorava nella campagna allora il sogno veramente era un desiderio come ancora oggi naturalmente per i ragazzi di oggi e chi studia musica oggi la musica la fanno con passione quindi veramente all'epoca era tanta passione e tanto sacrificio addirittura appunto loro dopo le giornate lavorative con tanta fatica con tanta fatica si riunivano con entusiasmo per fare le prove o poi addirittura per i concerti serali nei vari paesi del Cilento perché all'epoca era anche una banda molto richiesta che suonava in tutto il Cilento, su tutto il territorio cilentano io direi un omaggio a un grande artista Eugenio Di Aiuto buona parte sconosciuto anche perché non solo perché emigrò ma anche perché poi tanti brani non sono mai stati seguiti adesso è l'occasione per sentirti però direi anche una riflessione su quella che è l'attività musicale nel nostro territorio come sempre questo territorio tra tanti mali c'è anche quello di queste attività si lascia a desiderare però tu è da un bel po' di tempo che porti avanti invece un progetto musicale proprio per Fiati a San Mauro e Cilento tra mille difficoltà adesso dopo tanti anni cosa puoi dire? sta andando meglio? funziona meglio? vi stanno dando maggiore assistenza? oppure c'è ancora una volta tanta carenza? Diciamo che adesso rispetto all'epoca la situazione è diversa molto diversa veramente prima le difficoltà erano proprio logistiche mi raccontavano io spesso parlo pure con anziani diciamo che sono nelle bande mi raccontavano che loro appunto per andare a un paese dovevano andarci a piedi e quindi loro già facevano fatica proprio fisica per andare in un paese e andare lì poi e fare il giro come è consueto fare il giro del paese la processione quindi fare una giornata veramente faticosa di lavoro e quindi è affascinante questo fatto e poi soprattutto con quale entusiasmo loro lo raccontavano quindi dice guarda era bellissimo andare in un paese conoscere un paese nuovo noi non vediamo l'ora di andare in un paese nuovo mangiare a casa delle persone che invitavano poi bisogna ricordare che venivano ospitati nelle case ovviamente non c'erano nei ristoranti né altri posti dove ospitarli e venivano suddivisi tra le varie famiglie dei paesi ma questo credo fino a meno tanto tempo fa ancora fino a 20-30 anni fa ancora era così adesso è un po' diversa la situazione comunque diciamo i ragazzi studiano hanno le idee pure loro molto chiare c'è un'organizzazione diversa è un po' diverso ma è lo stesso ecco io direi e anche di dare un contenuto a questo programma quanti saranno i brani che saranno eseguiti alle ore 20 di domenica 15 luglio a Cardire tra l'altro è la chiesa di San Nicola credo quella è una piazzettina lì più o meno una decina di brani perché erano tantissimi da rielaborare mi è stato dato infatti non so se vi faremo vedere un po' un bel lavoro da fare sì sì una decina poi ci sono interventi pure del parco ci sono interventi hanno invitato come ho capito sono state tutte le autorità diciamo del territorio i vari sindaci e quindi le personalità del territorio quindi sarà una veramente una manifestazione importante e poi io sono mi piace lavorare da questo punto di vista riscoprire il passato no? potrebbe essere che noi adesso stiamo parlando potrebbe essere che fra qualche decennio parleranno di noi oppure lavoreranno su quello che noi abbiamo abbiamo cercato di creare o abbiamo costruito in questo frangente quindi è veramente bello poi quando si parla di persone quotate con titoli certificati appunto e quindi con persone che hanno qualità e capacità e hanno avuto la passione e hanno avuto la passione di sempre di rappresentare con la loro arte il territorio perché questo è il maestro d'aiuto comunque poi si è trasferito e è andato a Canale Monterano un paesino nel Lazio e lui comunque dicono diciamo nelle scritture si dice che comunque è sempre tenuto l'affetto verso il Cilento quindi per la sua terra per la sua patria come per tutti come ogni buon Cilentano perfetto allora noi saremo sicuramente a Cardile ripeto domenica prossima 15 luglio alle ore 20 presso la chiesa di San Nicola per riascoltare questi brani di un illustre nostro concittadino che qualcosa come un secolo fa davvero ha dato lustro attraverso la musica al nostro territorio grazie al maestro Schiavo saremo ci vedremo sicuramente domenica grazie a voi grazie a voi grazie a voi